buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video faremo vedere la differenza tra una lente semplice singola e un doppietto che è di maggiore qualità un doppietto è una lente formata da due lenti questa è una lente semplice sta ingrandendo una lente in vetro ed è già una buona lente se vogliamo avere lenti di maggiore qualità si utilizzano dei doppietti sono due lenti che vengono cementati insieme vengono compattate insieme e garantiscono un'osservazione migliore perché vengono corrette le aberrazioni qui stiamo vedendo appunto le due lenti e se si osserva attentamente si vede appunto l'unione il punto di unione anche questo è un doppietto ed è più nitida rispetto alla lente che abbiamo osservato per prima all'inizio anche questo è un doppietto vi sto facendo vedere il punto di unione delle due lenti quindi i doppietti sono lenti più precise e di maggiore qualità hanno anche un costo più elevato rispetto alle lenti singole normali adesso qui vi facciamo vedere appunto come formato questo doppietto sono due lenti ecco si vede proprio la incollatura di come funziona il doppietto grazie per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale su youtube grazie e buona giornata grazie a tutti